Una legge che è tutta propaganda e del resto il Presidente Marsiglio oggi ha svelato quello che tutti gli abruzzesi ormai sanno, cioè una legge svenduta ai palazzi romani e alla Meloni. Una legge che va incontro al securitarismo ma che non garantisce alcuna sicurezza all'interno delle case popolari ed anzi creerà problemi alle famiglie con molte norme che riguardano l'accesso alla casa popolare e la decadenza di quell'articolo 34. Per esempio anche un familiare che dovesse commettere un reato come per esempio la vendita di una bandiera, della bandiera italiana, addirittura tutta la famiglia perderebbe la casa. È stata una sfida quella che oggi abbiamo visto svolgersi in Consiglio regionale tra la Lega e Fratelli d'Italia a chi rendeva questa legge il più rigoroso possibile ma senza alcuna garanzia di funzionamento. Tant'è vero che l'articolo 6, cioè il colloquio costante, duraturo, permanente tra i comuni, le procure, le prefetture e l'Ater naturalmente non è stato in alcun modo rivisto. Ci sono delle cose positive e ci sono tante cose negative. Non si pensa per esempio al diritto ad un'abitazione sana e salubre. Secondo il dettato della nostra Costituzione, addirittura è stato bocciato un nostro emendamento di 200.000 euro per sanare le case Ater che avevano avuto problemi e danni con la grandinata del 10 luglio nonostante un parere favorevole da un punto di vista finanziario. Ci sono delle cose positive, sono due emendamenti che noi abbiamo portato a casa, che abbiamo proposto noi. Il primo riguarda il fascicolo del fabbricato che non è altro che una fotografia da un punto di vista statico, architettonico e tecnologico dell'immobile. L'Ater di Pescara aveva già cominciato da questo punto di vista, solo che la Lega ha chiesto che il fascicolo del fabbricato entri in funzione soltanto tra cinque anni. Noi però portiamo a casa oggi un principio e faremo in modo che nei prossimi mesi si possa cominciare in ciascun Ater a lavorare sul fascicolo del fabbricato. Poi c'è una norma a cui tengo molto, che è una mobilità, una mobilità volontaria che riguarda tanti casi che sono arrivate alla cronaca giornalistica. Casi di persone non deambulanti che vivono in alloggi, in palazzine senza ascensore, senza servoscala, che non si possono muovere. Per loro noi abbiamo chiesto l'inserimento con una quota percentuale di una mobilità volontaria riservata esclusivamente a questa famiglia. Che cosa diciamo come Partito Democratico e come centrosinistra? Diciamo che se con il tempo dobbiamo mettere a norma tutti questi edifici, dobbiamo dotarli di ascensore, nel frattempo facciamo in modo che queste persone possano vivere tranquillamente consentendo una mobilità esclusivamente riservata a loro.